Deciso a sopravvivere, Leon attraverso i sotterranei della centrale, dove trova un'orribile creatura a sbarrargli la strada. Il mostro, ormai privo di vestigia umana, lo attacca. Leon non si lascia sopraffare e riesce rapidamente a porre fine allo scontro, e quindi va avanti. Ah, che fastidio! Questi caricamenti che non durano abbastanza da farmi leggere le cose. Salve a tutti e bentornati a Resident Evil 2, dove non gioco da qualche giorno e non mi ricordo assolutamente cosa stessi facendo. Quindi lasciatemi osservare la mappa, e poi proseguiremo con la nostra magica avventura in Resident Evil 2. Giusto, abbiamo trovato intanto la manovella, che credo ci permetterebbe anche di tornare, sento suoni, alla stazione di polizia, se volessimo. Però qui mi sembra che ci fosse una strada che non abbiamo esplorato, è un enigma di cui non mi ricordo, quindi andiamo a dare un'occhiata prima. E la manovella, peraltro, ci servirà anche nella stazione di polizia, per esplorare nuove zone. Quindi è tutto a posto, no? Ah, ok, questa non è la vera strada. E quindi qui non possiamo tornare? Ma no, ma che truffa! No! Ma dai! E... si torna alla stazione di polizia! Whee! Ok, sì, il fatto è che... Che scemo! Io guardavo i vari piani presenti qui, ma la struttura sotterranea è una zona a parte. Ora siamo ancora nella centrale di polizia, nella prima zona. E c'era da esaminare tuuuutto questo... E questa porta qui, che presumo però sia chiusa in qualche modo. Infatti. Leon, solo spingendola, ha capito che l'ha chiusa a chiave. Un maggiorino tutto matto! Comunque. Che bello notare che hanno anche usato come macchine della polizia quelle classiche di film anni 80. Che bello, non so se siano ancora quelle. Spero di sì. Mi piaceva molto Blues Brothers. Dunque. Si va verso il canile. Sono molto contento. Perché i cani nei videogiochi sono nemici sempre facili da affrontare. E mai pericolosi. Ehi, la pianta blu! Le abbiamo già trovate, no? Perché queste gabbie sono aperte? Uh, polvere d'asparo buona. Purtroppo c'è sempre una grande verità. Quando ti fanno trovare... Cure dal veleno... Ah, c'è un cane. Che non posso colpire. Quando ti fanno trovare cura dal veleno... Di solito vuol dire che ci saranno presto nemici che ti possono avvelenare. E questa è una cosa brutta. Anche perché ricordo quali nemici ti potevano avvelenare poco dopo essere stati nel canile. Nell'originale Resident Evil. Hmm, 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 hmm. Io dico, hmm, hmm, perché penso di aver capito. Questa porta è chiusa, vero? Non ho capito niente. Ok, ok. È che vedevo questo piccolo condotto dove sicuramente Leon non riuscirebbe a passare. Solo una persona molto esile o piccola potrebbe passare. Perché nell'originale... Resident Evil... A un certo punto si trovava... Una porta chiusa e un passaggio che, commentato da Leon, diceva che poteva essere superato solo da una persona piccola. E qui? Uh, un referato autoptico. Justin Hansen. Un maschio caucasico, 39 anni. Trovato morto nel letto di una cella del personale. Le mani sono contratte per il rigor mortis che scomparirà presto. È probabile che sia morto appena spente le luci. Il deceduto era un noto cleptomane, condannato in più occasioni. Nonostante fosse detenuto, il suo disturbo lo portava a compiere furti anche in prigione. Non sei tu però, deve essere una di queste celle. La speranza è che non siano infetti quelli nelle celle. Ah, possiamo tirarle tutte? Oh no! Di queste, quanto saranno sorpresoni? Ok. E ti richiudo. E purtroppo, non so se è a causa della risoluzione mia o di chiunque. Ma a me piacerebbe aprire solo quello di Justin Hansen. Uh! Continua a tirare, Leon! Ma quindi quello era incastrato, non riuscivo a tirarlo più di così. Beh, questo rimettiamo là dentro. E godiamoci un po' il fatto che non ci fossero morti. Vorrei capire chi ci ha messo una pianta verde, ma... Eeeh, no! Non ce l'ho fatto tirare più di così. Sarà incastrato. Vabbè. Abbreviamo un po' la cosa, vi dirò cosa succede. Porca to... Ma che schifo! Ma rimettiamo lì dentro. Non mi ha fatto danno, era solo uno spaventone. Ok, il numero di spaventoni sale a uno. Sì, alcune sono bloccate. Però non mi sembra che ci sia niente dentro, va a capire. Perché lo so che alcuni di questi saranno zombie. Tra l'altro quegli insetti ricordano quelli che c'erano in Silent Hill 2. Sei tu, Justin Hanson? Beh, hai una granata. Io la raccolgo. Ho ancora qualche spazio nell'inventario. Poi però ti rimetto dentro, eh. Ehi, si è fatto chiudere, non pensavo. Qualcosa mi dice che questo cadavere, o meglio così si fa chiamare, è uscito da quel buco lì. Perché qui manca proprio il piatto. Oppure... È un cadavere che hanno proprio portato via. Perché non c'è neanche la... Il carrello, per intenderci. Forse era un cadavere importante. Forse proprio quello di Justin Hanson. Con i suoi oggetti utili. T'ha a posto. Ho visto che ti muovevi, però adesso ti lasciamo lì, eh. Ok. Piano pianino le apriamo tutte. E che lo so che alcuni di questi si risveglieranno. Però devo vedere se hanno oggetti. Oh, tu sei Justin Hanson, vero? Hai una chiave? La chiave di quadri! Oh! Lo sapevo! Porcaccia! Fammi tirare questo. Oh no, dovrò stordirti, vero? Justin Hanson, lasciami in pace. Io ti rispetto perché sei un cleptomane. E sei ancora in piedi! E sei ancora in piedi! Justin! Justin? Ok. Ora però è arrivato anche il tuo amico! Sei contento di quello che hai fatto, Justin? E... E mi impressiona gli zombie che sono più resistenti di quelli della centrale di polizia. Beh, lui è stato spiaccicato. Dai, veloce veloce, Leon. Tira fuori questo altro cadavere che sarà un suo personale. No! Però abbiamo la chiave di quadri, signori. Questa è una cosa importantissima. E tiriamo fuori anche questa, ma anche quando si rialza. Si muoveva quando l'abbiamo tirata fuori. E non ha neanche oggetti da raccogliere. Che truffa! Beh, finché sta tranquilla, rimettiamola dentro. Piano. Però, fico, abbiamo la chiave di quadri. Che ha anche cambiato il nome ora che l'abbiamo esaminata. E quante porte ci apriamo? Una qui. Ci apriamo una porta. Ma davvero. Vabbè. Non mi lamenterò, eh. Perché sono sicuro che sia un oggetto che bisogna prendere. Però dai! Manovella in azione! No. Ok, sì. Dimenticavo che devo essere anche nella schermata dove esamino l'oggetto per usare gli oggetti chiave. Uh, si ris... No. Speravo che si risalisse di più. E direi che ho anche visto la mappa di qui. Sentito un suono? No. Dunque. Grazie al fatto che abbiamo la mappa possiamo sapere cos'è. Uh, la stanza del generatore! Non credo che abbiamo qualcosa di utile per il generatore. Però. ci saranno cose utili. Tipo polvere da sparo. Eh, bisogna lavorare un po' di... di inventario qui. Cominciamo a fondere un paio di erbette. Dopodiché fondiamo un paio di polveri da sparo. Poi fondiamo i colpi del fucile con i colpi del fucile. Ok. Ok. E qui? Ah, componente elettrico? Eh, beh, solo la scatola quindi se lo esamino potrò tipo aprirla. che cosa è graziosa. Ah! Mi ricorda qualcosa. Un componente... Ah, c'era un quadro elettrico da qualche parte. Sì, l'ho anche visto sulla mappa. Ok. Spero che ci basti solo quello, ma... Ma... Questa è la stanza del generatore. Quindi ci sarà anche l'enigma del generatore. E quello... Sì... Che bello. Ovviamente è modificato rispetto a quello originale. Però c'era un enigma concettualmente uguale. Credo che dobbiamo fare in modo che entrambe quelle lancette vadano nella zona rossa. Quindi... Il passo uno è capire quanto modifica la tensione ogni singolo tasto. Yeah! Ce l'ho fatta! Andando un po' a caso diciamo che si può andare più o meno a tentativi. Ho una brutta sensazione. Oh cielo! Oh cielo! Questa non me l'aspettavo! Ciao doggy! Lasciatemi... Oh, io scappo dei cani, sentite. Aiuto! Via! Via! No, no, no! Mi lasci in pace signor canna. Dove diavolo è uscito? Non potranno superare le porte, no? Sono cani. Ma io nel dubbio me la telo. Aiuto! Aiuto! Sono un po' ferito. Dannazio! Vabbè, io... Io entro nelle porte. Ehi! Siamo al sicuro nell'obitorio. Boom! Ok, il cane non è sicuramente morto però un colpo di fucile almeno li ferma. Cani zombie. quanto li ho. Ciao! Oh no, ecco chi è che passa da quei condotti! Ma dai! Chi conosce l'originale Resident Evil saprà chi... Ma quanto siete veloci! Ma neanche in Demon's Souls! E non sono ancora stato di qua al poligono di tiro dove ci saranno armi. o zombie! È un'altra ottima opzione! Chiave della volante 7439 Chiave piegata e inutilizzabile Usando i pulsanti si possono ancora aprire portiere e bagagliaio Ah, quindi c'è una macchina che non ho fatto caso potevo esaminare forse La 7439 È graziosa questa cosa delle scatole che possiamo esaminare per poi aprire Tecnicamente non serve a niente Avrebbero potuto mettere l'animazione in cui Leon apre la porta Però aggiunge atmosfera la trovo La chiave è molto consumata Ah Oh no Una chiave di quadri Un messaggio da Mr. Raccoon Ah, questo è il pupazzo che avevo visto Ciao bambini e bambine Sono io Il vostro amico dello zoo di Raccoon City Tutto bene Oggi voglio parlarvi di una cosa che mi sta davvero a cuore Conoscete i favolosi pupazzi di Mr. Raccoon vero? Beh Un uccellino mi ha detto che ora va di modosarli per il tiro al bersaglio E la cosa mi rende davvero molto triste Ma dei bravi bambini non farebbero mai una cosa simile vero? È super mega ultra pericoloso Non fatelo mi raccomando Ci vediamo allo zoo Un abbraccione dal vostro Mr. Raccoon Mi sono un attimo abbacinato perché ho notato che questo zombie ha anche un'estetica unica Questa qui invece assomiglia Mi lasci signorina Ho l'impressione che i zombie diventano più resistenti ma meno che stiamo andando avanti Comunque si avvicini Si avvicini Si avvicini Lasciami in pace sono qui per cercare oggetti Munizioni Dai non ci credo che in un poligono di tiro non trovo munizioni Oh eccole qua Oh Ed ecco il Mr. Raccoon Si becchi questo È scoppiato in un modo molto fico Questo va detto Che abbia un'importanza Comunque mi piace il modo in cui hanno gestito qui gli zombie E qui Un rullino Un altro rullino Cavoli Cavoli Come gestire la cosa Non voglio rifarmi il giro E qui ci possiamo curare Vediamo cos'altro c'è Ah cavoli Perché non posso Invece posso Questa miscela mi rende tipo immune al veleno Comunque mi aumenta la resistenza per un po' Quindi posso prendere anche il rullino che dovremo andare a sviluppare Ci sono molti più rullini Da sviluppare Che nell'originale Sapete Comunque dicevo Mi piace il modo in cui hanno gestito La resistenza Degli zombie Iii Ho esaminato bene questa zona No c'è ancora una porta Tuttavia vado alla Cassa senza fondo Au Ma Cane Si è riempito di cani Ma Ok Vi maciullo Ventupoli Mi piacerebbe che fosse morto Ma non ci crederò mai Sono la cosa più agile mai vista nell'universo Questi cani E li ho Spero Uccisi solo perché Qui dovremmo passarci varie volte E approfittiamole per Premere il tasto La piattura della macchina Ah ah Magari ci sono solo munizioni Possiamo già raccoglierle Invece Cos'è Uuuu La La modifica che permette di Sparare i tre colpi insieme C'è ancora Non sono sicuro Di volerla prendere Ma è bello che ci sia Yes Ah si è allargata Ora occupa due slot Occupa lo stesso spazio Di un fucile E' diventato un piccolo mitragliatore Comunque Mentre vado A esaminare il pannello Di controllo della porta Vi dico perché mi piace Questo nuovo sistema Del Gli zombie Non si capisce bene Se siano morti o meno E soprattutto Il fatto che Si possa rallentare Con i proiettili Mette molto più tensione E Ti fa chiedere Molto più spesso Quanto valga la pena Usare proiettili E quanto non valga la pena E ti dà anche La possibilità Extra Di Beh fondamentalmente Usarne pochi Di proiettili E dato che questo Non si trovava Al horror In cui Capire come usare Le risorse E Una delle parti Fondamentali del gioco Lo apprezzo come sistema E' veramente bello Si è qui che si può usare Ok Me ne servono ancora No Me ne servono ancora Vero Si Vedo un altro buco lì Cavoli E Dobbiamo esaminare ancora Si torna dove ci sono i cani Evviva Mi vergogno di quanti colpi Ho sprecato Mancandoli Ah Inoltre il fatto che non sia Ancora chiaro a me Quanti colpi servono Uccidere uno zombie A questo punto Penso ci sia del caso Oppure Penso che gli zombie Abbiano fondamentalmente Resistenze diverse Impostate manualmente Ti mette ancora più Il dubbio del Che faccio uso Queste munizioni Senza neanche sapere Se questo zombie morirà Le uniche volte In cui sono certo Che lo zombie muoia E Quando gli scoppia la testa Ma è successo molto Di rado Onestamente Heeey Questo posto c'era anche In Resident Evil 2 originale Ed era Il punto da cui si accedeva Giustamente Al Al parcheggio sotterraneo C'era anche un modo Per Una Una stanza sicura Per chiudere qui le finestre Ma vabbè Rilassiamoci un po' E continuiamo a trovare Ai noi Cura dal veleno E polveri da sparo buone E munizioni per pistola Che ne ho usate parecchi Di recente Proietti di calibro Sono munizioni diverse Per la pistola No Allora devono essere Per qualche altra pistola Un altro fusibile Ottimo E' un Mister Raccoon Che però Non voglio sparare Tre colpi Quindi datemi un istante Suppongo conti Come una specie Di collezionabile Quindi Dovremmo anche andare A ritrovare Quello che avevo visto Ok Continuiamo a esaminare Mi stavo tenendo il rollino Ma in realtà La stanza Dove possiamo andare A Come si può dire A sviluppare Quel rollino E un'altra stanza sicura Dove c'è una cassa Di sicurezza E quindi Tanto vale Le assi di legno Io me le prendo E qui Sapendo come era il gioco Originale Blocco tutto il bloccabile E poi finisco Rapidamente il tasto Rapidamente il tasto Spara comunque Una volta sola Ma mi da L'opzione Tenendo premuto Di fare Il fuoco automatico Hei Ho il fusibile E un altro coltello Nooo Il mio amico Si è zombato Guarda io ho un po' Paura ad avvicinarmi Per andare di me è utile E perché l'ufficio Alla est È ancora da esaminare Ci sono cartucce Per fucile Che non ho visto Davvero sono così cieco Il fatto che il gioco Ti faccia notare Quando ti stai perdendo oggetti Da un lato È molto comodo Non fraintendetemi Forse è troppo comodo Però io non Non mi prendi Non mi prendi Eh non mi ha preso davvero Questo però Era un po' staccio Se non ricordo male Un po' staccio Postaccioso E cos'è Che non ho ancora visto qui Fatemi esaminare C'è una pianta verde Sapete che non riesco A riconoscere le piante verdi In queste Resident Evil Il fatto è che Nell'originale Erano oggetti Tridimensionali Su uno Sfondo Bidimensionale E si notavano Qui è un po' di meno E Marvin È vero È da un po' che non torniamo Marvin Marvin Ehi è in piedi No Marvin Dai Diamo la giusta fine Che merita Scusa Marvin Non è ancora Metterò fine a tutto questo Glielo prometto Wow Il fatto che io non abbia detto Questo Penso voglia dire Che sia morto Morto Comunque peccato Che è Insomma Era ovvio Che sarebbe successo Eh Però È un peccato lo stesso Oh cielo Quando è comparso quello? Già È sempre così Ogni volta Che si va Che si fa Avanti e indietro Compaiono nuovi nemici Succedeva anche Nel primo Resident Evil Allora Si comincia nella villa Si esplora Si esplora Un posto un po' diverso E quando si torna È pieno di nemici Molto più pericolosi Uh L'armadietto Del terzo piano DCM Quello che c'era Suppongo qua sopra E andiamo DCM Olè E troviamo Altri colpi Fighi Però Non è quello Che mi serve D'arnazione Dunque La cosa più saggia È andare Innanzitutto A usare La chiave di quadri Nell'altro posto Dove sappiamo Che serve La chiave di quadri Dato che È possibile Che se fosse L'ultima porta Per cui serve Ci libereremo Uno spazio Nell'inventario Ok È diventata inutile So che le altre chiavi Le stavo tenendo Ma Se trovassi Qualcoggetto Che voglio A questo punto Accetteria anche Di scartarlo Un altro Di quegli enigmi Brotti No Non voglio Sare cattivo Ma È un giochino Però Bisogna andare A caso Cercando di ricordarsi Un po' Dove illuminano Le varie cose Sono andato a caso Per un po' E ce l'ho fatta Spero ci sia qualcosa Che vale la pena L'altro tasto Possiamo prendere Lo spazio Qui nell'inventario Andiamo E soprattutto Altra cosa Che rende interessante I livelli Come sono creati In Resident Evil Dobbiamo cercare Di scegliere La strada Più saggia Quella che ci mette A meno in pericolo Ma dai Ma mi lasci in pace Per cortesia Non mi seguire qui Non mi seguire qui Non ci provare Non voglio usare una cura Io voglio Spazio nell'inventario Ok Dai Finalmente 1-0-3 E 2-0-3 E 2-0-3 Yes Yes Dammi qua Il borsello Abbiamo tantissimi Abbiamo tantissimi slot È una sensazione Bellissima Siamo anche pieni Coltelli Sì Potremmo mettere qualcuno Via onestamente Ma C'ho paura In teoria Quello che diceva La guida Che abbiamo trovato È che Come si sa I leakers Sono ciechi E quindi Finché ci muoviamo piano Ci lascia proprio in pace Guarda Noi qui Dobbiamo più tornarci In realtà No Quindi Penso che la cosa migliore da fare Strategia Sia curarci E cercare di fuggire da lui Perché questa zona Ci è più o meno inutile adesso Qui potremmo arrivarci da sopra Dalla biblioteca Cosa che Cosa che avremmo già potuto fare Dai Andiamo Piano 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 Ce ne andiamo Il leakers Ci lascia in pace Che vista Atroce Lo miro col fucile Se si muove Gli sparo Sono preoccupato Quasi quasi Gli sparo lo stesso Non ha fatto rima Mi sono spaventato Perché c'era uno zombie Che mi ha beccato da dietro Ok Ok Mette tensione Mi ricorda molto un metro C'è un nemico di metro Che si comporta quasi Allo stesso modo Quindi l'abbiamo esaminato bene Il fatto che ci sia anche L'indicatore che ci dice Se ci sono oggetti Da trovare o meno E' molto comodo Oh E' una più Se avessi esaminato tipo Un cicinin meglio Avrei avuto Una pianta rossa Mista a una verde Ora starei una favola Cavoli Peccato Ma vabbè Il fatto è che le piante rosse Danno il loro meglio solo Se lo misce a quelle verdi Va bene Andiamo a usare Il cric meccanico E a posare qualcosa Nella cassa magari Ah giusto Questa non è la strada migliore Facciamone un'altra Ma quale? Oh no Adesso anche sopra C'è un leaker Cacchio Cacchio Sapete che vi dico Io ammazzo questi balordi Ho un sacco di colp... Sono tornati lì? Ma che comodità Quindi forse posso schivarli Grazie amici Che vi ne siete andati in quella direzione Per nessun motivo Evviva Ciao Marvin Come va? Da posto? Sempre morto? Wow ma è mortissimo Ci ho fatto caso adesso Quanto è aperto Suppongo sia un effetto del fucile Sciocco io Ok Questo ci apre tutto un bel ramo Della stazione di polizia Sento già rumori brutti O forse solo il cancello Ok Ehi Ma posso beccarli anche col coltello Per caso Penso sia la cosa più saggia Che possiamo fare L'ufficio del capo Ah l'ufficio della porta di cuori Ma certo Proprio lui E qui Pensavo si potesse solo salire Invece si può anche scendere E dove andiamo? Forse apriamo qualche porta da dietro Ciao Madonna ma è È Jack Nicholson in Shining Ah ma che scemo No No Credo devo essere in un posto Dove ero già prima Ma in realtà no E soprattutto non ho più Assi di legno Qualcuno qui ne ha già messe però Gentilissimi Tocco le porte anche se non Anche se so che non posso aprirle Solo perché così Sono sicuro che resti il segno Di che chiave serve Ma dai Ma mi serve sia cuori che fiori Che sono quelle che non ho Ma che cazzo Ad esempio Dato che io so che qui dovrò Passare di nuovo Perché ci sono due porte Non sto a sparare a quello Finché Muore In realtà Potevo quasi spararvi alle gambe Per farlo cadere e superarlo E allora si sale Ehi degli assi Quindi se fossi passato prima qui Avrei potuto impedire Che uno zombo salisse Va bene Va bene Devo usare anche più spesso le granate E ora ogni volta che apro Un armadietto Ho tensione Perché se vi ricordate Una volta è uscito un cadavere Peraltro un cadavere Che è rimasto un cadavere Che è una cosa abbastanza rara In questo gioco E E' una bella idea Di game design Perché Mettendo semplicemente Un trappolo in una volta Ora Abbiamo la tensione Che tornino altri trappoloni Di quel livello Anche se Se non lo facessero mai più La tensione rimarrà Per chi ha un po' di memoria Oh cavolo E' pieno di zombo E di porte chiuse Qui ce ne sono due Quindi non penso di poterli evitare Entrambi a lungo Oh Un ingranaggio Alla faccia Un ingranaggio grande Credo di sapere già Dove servirà Ma è in un posto Dove non siamo ancora stati Quindi Ah chiave di cuori Dov'è la chiave di cuori Sto trovando un sacco Di porte di cuori Le porte di cuori E si Perché da qui Si va Alla torre Dell'orologio Da quella porta chiusa Che non so come aprire Cavolo Spero che l'altro Stia ancora dormendo Perché è ben risaputo Che i zombie dormono a lungo Molto a lungo Ok Da qui forse potremmo far spegnere L'incendio Sapete Ho questa vaga idea Così Spunta fuori dal nulla E quante piante blu Mi state dando Ci saranno nemici Che mi avvelenano Guardandomi Mi servirà una manovella Però Uh no Mi servirà un filmato Oh no Non posso più tornare indietro Cavoli E mo Stessa cosa che ho pensato anch'io Solo che ho detto cavoli Perché sono una persona misurata Cos'è Yeee Acqua Che freschezza Dobbiamo riparare quello In qualche modo Si Perché come vedete Quello è l'elicottero Che ci blocca il passaggio Come faceva anche nell'originale Dobbiamo fare in modo Che l'acqua arrivi lì Ho visto un pezzo di tubo rotto Prima No no Ho visto quello E pensavo fosse una cosa D'accoglibile Però come lo riparo Forse trovando un tubo da qualche parte Perché nell'inventario Non ho oggetti utili Quindi sicuramente per adesso Non possiamo farci niente Uh chissà se C'è ancora un Piccolo Easter egg Non è proprio un easter egg Un cane No hanno cambiato livello Uh due piante verdi No Questo vuol dire Che mo ci sarà un boss Posso fare la La cura definitiva Mi cura dal veleno Mi rende resistente E mi cura tutto Anche qui c'erano parecchie piante Se non sbaglio O è un motore che si sta avviando O è un boss Il fatto è che in là C'è tipo l'uscita dalla centrale Sì che bellezza C'è la stessa stanza Sei scoppiato amico E questi zombie assomigliano vagamente A quelli che trovavamo andando in là E qui Non so cosa ho fatto Ma l'ho fatto lo stesso Ok Nessuno mi dice cosa posso O non posso fare Ah ho cambiato L'ordine dei tubi No l'han tolto Ah c'è anche la porta Bene 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 Ci liberiamo spazio Yes Dietro questa porta C'è solo No L'hanno tolto La chiave di fiori C'è dietro questa porta Questo è cambiato molto Nell'originale Si entrava in una stanza Simile a questa Ma qui c'era una porta E se provavamo ad aprirla Invece del filmatino Della porta che si apre Basta C'è il filmatino Della porta che si apre E di noi che rimaniamo fregati Perché escono fuori Degli zombie E ci attaccano Ma Per nostra fortuna L'ion è furbo E si allontana Inoltre se esaminiamo Di nuovo la porta L'ion fa Meglio non uscire All'aperto Ci sono troppi zombie Ok Ora che abbiamo Chiamato l'ordine Adesso forse arriverà L'acqua Dall'altra parte E potremo Spegnere L'elicottero Proviamo Proviamo E speriamo Soprattutto E vive Va bene Non so se nella vita reale Funzionerebbe così Ma Sono io per lamentarmene E soprattutto Che schifo La vita reale E quindi Vi qui ora Tu non eri nella parte 3B Allo Aiuto Nonononononononononononon Io so Cos'è quello È uno zombo Che ci insegue ovunque Non è Devo provare però Beccati un po' di proiettili Amico Mi lasci in pace Per cortesia Uh l'ho fatto cadere L'ho fatto cadere Devo andarmene Sì ma dillo Con un minimo di pathos Leon Per cortesia Sto sbagliendo strada Vero Eh sì perché Lì finisco solo Devo prendere L'altra strada Ma non c'è un altro Adesso posso aggirarlo Mi ha anche spostato L'elicottero Che gentilissimo Mr. X Oppure Q Come ti chiamerei io Per chi conosce Street Fighter 3 Ok È andato molto meglio Del previsto Comunque quello Non è Come avete intuito Uno zombo comune E non sto più ben conto È andato molto meglio Di quanto mi sarei aspettato Ad ogni modo Ho la chiave di fiori Beh rifacciamo il giro Andiamo giusto ad aprire la porta Eh Oggi sta venendo In un episodio più lungo Ma abbiamo anche fatto Ho l'impressione meno cosa O meglio Non è andata avanti la trama Abbiamo fatto però La conoscenza Di un nuovo simpatico personaggio Uno che sposta Elicotterico Con una mano sola Ah già Te volevo anche uccidere prima Ma che Potrei trovarmi costretto Di questo passo A Usare le mie Io non voglio che Entri nessun altro qui Usare qualche polvere da sparo Anche per aprire Per aprire Per creare colpi della pistola Comincio ad averne pochi Sto diventando un po' Troppo libertino Ok serve ancora Mi ricordavo che ci Che ci No Anche questa stanza c'è Ah forse posso andare Da una parte all'altra Non era così Un portagioie In cui sembra potersi Incastonare un grosso Rubino Vero? Eh sì Ha delle gemme Gli ne manca una Ok tutta la cosa delle gemme È stata cambiata parecchio E anche questa stanza 6211 Alza i cassaforti Evviva! Un uomo sospetto è stato trovato Nel luogo sopra citato Nella sala d'attesa 2F Avvicinato da un agente Ha tentato la fuga Fingendosi confuso Ma è stato arrestato E gli è stato confiscato Un biglietto Ed è Justin Hanson 39 anni Residente in città Celibe E assiduo frequentatore Delle nostre celle Non è cattivo Ma è affetto da cleptomania E ha rubato cose Anche in una centrale di polizia E c'è un pezzo di carta 6211 Ok passiamo dall'altra parte Ah colpi per pistola Non so più parlare Colpi per pistola Qui c'era uno spray curativo Una volta E questa stanza Era messa un po' meglio Quindi in realtà Questa chiave di cuori Serve a niente È possibile Che potessimo aver già trovato La chiave di cuori Che io me la son persa Da qualche parte Perché sono un idiota È possibilissimo Non lo escludo Questo non vuole morire Ma porca Aiuto Non è che mi apri questa porta Sì questo è uno specchio Di quelli Quelli magici Da un lato È uno specchio Dall'altro È un vetro Serve per spiare la gente Per chi non abbia mai visto Un qualunque poliziesco In vita sua Se ne è andato no? Credo che stia camminando Al piano di sopra E credo che ce l'abbia con noi Molto bene Molto bene La stanza con quella cassaforte È qua vicina Sì E sono ci sicuro Che di qui non ci sia Mister X Sento i suoi passi Però che paura Vi assicuro che Sentire i suoi passi Angoscia tantissimo È qui che c'era la cassaforte No? Sì Ok Sei sinistra Due destra Sei Due Undici Olè Cucchio è Stiamo modificando La Matilde In maniera incredibile Con un riduttore Di rinculo Olè Va che ficca Si potrà Si potrà modificare così Anche nell'originale Però quello che ce l'ha resa Una tre colpi Mi ricordavo che fosse Lo stabilizzatore Tuttavia Tuttavia Anche se Questo gioco è assolutamente Un crea dipendenza Incredibile Penso che ci convenga Fermarci Cacchio 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 Grazie a tutti.